Almeno per ora non partono i lavori per la sistemazione del reparto UTIC di Sulmona, in quanto non sarebbe realizzabile il progetto. La notizia è arrivata stamane dal direttore sanitario dell'ospedale, Tonio Di Biase, mentre si stava svolgendo una conferenza stampa del Tribunale per i diritti del malato. Immediato il commento del responsabile dell'associazione di volontariato, Edoardo Facchini, che evidenzia come, rispetto agli annunci fatti finora, non si è visto ancora nulla di concreto. Al contrario, Sulmona è sempre penalizzato rispetto agli altri territori. Ribadiamo sempre che non è un problema di campanilismo, ma è un problema di organizzazione. Facchini fa il raffronto con una delibera di 12.750.000 euro per la messa in sicurezza del San Salvatore dell'Aquila. Chi fa seguito a quella per l'ala nuova del nostro comio di Sulmona di 2.700.000 euro? C'è una bella differenza. Per Sulmona qui ancora non parte nulla. Stiamo navigando a vista. Una asla non può permettersi questa. In merito al trasferimento delle 11 unità dell'ufficio acquisti? Noi rileviamo senza polemica che i sindacati non si sono sentiti affatto. Sono 11 posti persi da Sulmona, 11 posti dell'ufficio vendita, che vanno all'Aquila probabilmente, anzi quasi sicuramente, a complicare la situazione burocratica. E sicuramente non è un risparmio perché non è che ci sono 11 posti di lavoro in meno. No, ci sono 11 persone che probabilmente potrebbero essere costrette a fare i pendolari. Il responsabile del Tribunale per i diritti del malato ha inoltre riferito di aver avuto rassicurazioni sul CUP e sul servizio ambulanze dalla dottoressa Rossella De Santis, che sostituisce in alcuni giorni il direttore del distretto sanitario Salvatore Lacivita. Persona gentilissima e squisita che ci ha messo in condizioni di lamentarci perché il CUP non funziona, ma anche di dirci che immediatamente sarebbe intervenuta, sia per quanto riguarda il problema personale, quindi organizzativo, sia per quanto riguarda anche il problema delle ambulanze, perché solo a Sulmona l'Adi è costretto a far pagare le ambulanze all'utenza. E questo non è giusto. In merito infine alla battaglia dei comuni del versante abruzzese del Parco Nazionale, che sono senza guardia medica da 15 mesi, Facchini riferendosi alla protesta messa in atto ieri nella sede dell'Asra L'Aquila dal Comitato Intercomunale del Diritto alla Salute, dice questo di Silvelli. Il direttore generale che si arrabbia, lancia gli occhiali, eccetera, perché sostiene che non è compito suo quello di sostituire medici di base. È vero, ha ragione, però è altrettanto vero che è compito suo sollecitare la Regione. è un direttore generale di ASL.